Un grande primo tempo della Juventus RS Weekend in questa serata. Monica Bertini. Ciao Massimo, buonasera a tutti voi. E sì, è solo un assaggio di tutto quello che ci aspetta attraverso i gol, attraverso i commenti, attraverso le analisi. Noi ci siamo, voi ci siete, sì, sono sicura di sì. Ci sono anche i nostri ospiti, per cui ben trovata Riccardo. Buonasera, buonasera a tutti. Franco Ordine. No, non finiscono qui perché ci sono grandi firmi. Massimo, ed ora è giunto il momento di andarli a rivedere tutti i gol di questa giornata, partendo ovviamente dall'ultimo match, quello dell'Allianz Stadio, quello tra Juventus e Milano. L'appuntamento in casa da lui, punti proprio come il Cagliari, peggio, ha fatto solo la Salernitana a zero. Sì, la quarta volta non accadeva da 60 anni. Tomori Terzino non l'ha incartata. Poi è stato diverso, ecco, quei cambi che forse invece hanno inficiato un po' la prestazione della Juventus. Alessio, ascolta bene di Massimiliano Allegri e poi la commentiamo con te. Quando si è già... Te aveva ribadito il dovuto mettere uomini un po' più difensivisti, ecco. Maestro, no, nei cambi. Forse questa polvere di quest'annata lo sta condizionando. E condizione fisica. E attenzissimo con Riccardo Fe... I temi che abbiamo selezionato ce ne sono davvero molto interessanti alcuni, che sono questi. Ma dobbiamo prima di tutto rendere merito al Milan e torno da Mario Sconcerti per chiederti... No, guarda, anche perché Massimiliano Allegri ha detto che bisogna mantenere calma e sangue freddo, secondo me Massimo Zampini è calma e sangue freddo, anche no in questo momento. Però noi leggiamo sotto Juventus Show che è in zona retrocessione, e qua ti stanno dicendo praticamente tutti che non è una squadra e tu come rispondi? Vuoi fare l'avvocato della Juventus? No, rispondo che al momento... L'audio, ripartiamo da Alessio perché insomma... Voglio arrivare, se vuoi una Juve a Rem... Ti è prevenibile come tu volevi... Io non posso insegnare Allegri perché io non posso fare a meno di quattro... Anzi, noi ci fermiamo, pochissimi istanti, di nuovo qui. Lo riprendiamo, aggiungendo ancora carne al fuoco e c'è tanto altro di cui parlare anche delle altre squadre. Restate qui. Che gol, insomma, quello di Pellegrini, questo ha già dato lo spunto anche per rispolverarne altri. Massimo, tu come te la cavi con il colpo di tacco? Discretamente, discretamente. Io al momento ho un 12, quindi è meglio che non mi sbilanci. Teoria a tutti, sì, ce la caviamo. Meglio Pellegrini. Deve stare attenti a non strapparsi. Sì, esattamente. E siamo entreremo proprio nel vivo dei nostri voti con le pagelle del Big Match di questa sera. Prima di andare alla Moviola, però a proposito, io non voglio dare una cifra, ma la faccio con Umberto. Ma se al posto di Massimiliano Allegri, che ovviamente tutti stimiamo, l'abbiamo già sottolineato, ci fosse stato un altro allenatore tipo Andrea Pirlo, sarebbero cambiati i giudizi? Per colui che sta in panchina? Era stato meno stressante di quello di Liverpool. Scusate, ma vogliamo dire un attimo che... Più bravo e chi è meno bravo? No! Era solo... La presenza o l'assenza del Milan... Mario Scorsetti ha alzato la mano. No, io sono d'accordo sull'arco. Far gran lavoro anche per te, perché i casi di questa partita non sono terminati qui, Graziano. No, non si infiscono qui. Il giudice anti-simulazione. Il lunedì si riguarda questo messaggio, mi piace. Il contro stesso. Sì, certamente sì. Mi ha dato il suggerimento. Niente, vabbè, ci abbiamo provato Riccardo, ci è andata male per il momento. Andiamo avanti, Graziano. Andiamo a vedere l'episodio più controverso. Secondo voi quali sono stati i migliori e peggiori del match, però vi diamo qualche aiutino. Dai, le pagelle che intanto ha stilato per noi Franco Piantanida, dalle quali potete cogliere i vostri spunti. La parata su... Buon percorso con i punti in campionato, con i successi in Conference League, ma quest'oggi è arrivata la prima battuta d'arresto stagionale per la Roma di José Mourinho. Andiamo a sentire lo special one dopo il match. Privacy, allora è doveroso sbirciare anche quello che c'è scritto in quel pizzino di José Mourinho, consegnato oggi in campo. Sì, oggi c'erano tutte le disegnerazioni di allenatori della vecchia generazione, invece che è tornato a sedersi su una panchina, Walter Mazzarri. Mario, questo ritorno dell'ex allenatore, del Napoli, dell'Inter, insomma tra le altre, che oggi ha fermato un altro maestro come Sarri. È più facile non farci male. Ci sta, ci sta, però osserviamo tutti, non ci siamo persi neanche questo. Così come non ci perdiamo che di fatto i campioni d'Italia ancora una volta si ritrovano là in alto in classifica, l'abbiamo detto, al pari del Milan. Ma Riccardo, quali indicazioni sono arrivati al netto che è stato un punteggio tennistico, se è uno contro il Bologna? Ovviamente differenza di carature in campo, ma c'è anche molto di più nei mesi. In questo caso anche il portiere, insomma, del Real. Alessio, poi da poi mettiamo sul tavolo un altro tema. Antonio Conte ha fatto male ad andarsene, non è stata una decisione un po' affrettata? Eh, io non dico che... No, no. Sempre meglio anche l'Inzaghi interista, invece coloro che ormai quelle piazze le conoscono bene, per fare il passo indietro, tornando al Big Mesh di questa sera, da una parte Massimiliano Allegri, dall'altra Stefano Pioli, la super sfida vista da loro. Questa è partita bene. Sandro, però, visto che noi abbiamo accostato l'altra, hai visto proprio la differenza di atteggiamenti? È molto chiaro, più confusionare con il tentativo di mantenere la calma invece di Allegri. Avrei voluto aggiungere io. Come che Allegri dice, fa 4-3-tick come lo vedi tu da... Via, e quindi? Monica, gli agenti che prendono calcio non conviene mai! Questo gioco. Perché si rovinano le società. Ascoltare cosa ha da dirci il nostro Carlo Pellegatti, proprio sulla prestazione del Milano. Ah, però! No, non è stato assolutamente aiutato. Con queste parole noi ci fermiamo, in pochissimi istanti, poi di nuovo qui. Restate con noi. Massimo, però una bellissima notizia perché c'è il tuo... Con Raiola, però. Con Raiola. Con Raiola. E ringrazio anche le nostre grandi firme, Umberto Zappelloni. Tra pochissimo. Mercoledì arriva subito, intanto anche voi riposate perché ci aspetterà un turno infrasettimanale entusiasmante. Grazie per essere rimasti con noi, buon proseguimento. Buonanotte.